Giro di vite ha annunciato dalla Giunta Provinciale di Bolzano in merito ai controlli su rispetto delle regole per arginare i contagi da coronavirus. È indispensabile osservare le poche e semplici disposizioni per evitare il nascere di pericolosi focolai. Abbiamo deciso di ribadire questo concetto. Manteniamo le regole che abbiamo già un attimino rafforzate negli ultimi giorni e adesso le facciamo osservare. Anche con controlli ancora più massicci, anche l'intervento della Polizia Municipale per avere anche un intervento capillare su tutto il territorio. Ne parleremo anche con il Consorzio dei Comuni, ma tutte le forze dell'ordine controlli e anche sanzioni là dove è prevista la legge. Il rispetto delle regole è fondamentale per mantenere la curva dei contagi sotto controllo. Anche la mascherina chirurgica è già abbastanza per entrare in un reparto Covid, stare alla distanza di un metro o di più di un metro, uscire di nuovo dalla stanza di un paziente Covid e non essere infettati. I Comuni dell'Alto Adige riceveranno 47 milioni e 700 mila euro di compensazioni per le minori entrate legate al periodo della pandemia da coronavirus. La Giunta Provinciale ha approvato l'assegnazione e il pagamento di fondi propri e statali. Quelli provinciali ammontano a 21 milioni e mezzo di euro, serviranno a rimborsare le minori entrate IMI in connessione alle agevolazioni Covid-19. La Giunta Provinciale ha approvato anche i nuovi programmi del Noi Tech Park Lab Bonus e Pre-Incubation Grant per agevolare il lavoro delle start-up e iniziative imprenditoriali innovative. L'erogazione dei servizi avverrà in modo totalmente agile e poco burocratico.